A sei giornate dal termine del campionato di Serie C, la situazione della Vispesaro vive, o meglio, sopravvive su equilibri sempre più precari. Sabato alle 17.30 c'è il derby in casa della Fermana, una partita nella quale la squadra di Brevi è obbligata ad una reazione se vuole provare ad allontanare lo spettro di una retrocessione sempre più ingombrante dopo l'ennesima sconfitta censurabile di martedì col Montevarchi. A far discutere oggi però è stato soprattutto il comunicato stampa della società bianco-rossa che, si legge, ha condannato gli episodi di violenza che hanno portato un serio danno alla società sia a livello economico che d'immagine con l'ennesima pesante sanzione di 3.500 euro che la rende tra le società più multate della Serie C. Una situazione che secondo la società non rende giustizia neppure all'immagine di Pesaro. Un giocatore è stato colpito con un oggetto e questo è intollerabile e si auspicano che i responsabili vengano individuati e che la giustizia faccia il proprio corso. Società che dice come le critiche e la contestazione sono lecite purché non si superi la soglia della legalità. Comunicato che è stato accolto da un centinaio di commenti tutt'altro che lusinghieri da parte di una tifoseria inferocita verso un mondo di aficionados bianco-rossi sull'orlo di una frattura insanabile con la società del presidente Bosco. Società che nella stessa mattinata ha emesso anche un altro comunicato che avvia ufficialmente il silenzio stampa di tutti i tesserati. Comunicazione che sui social è stata postata con tanto di blocco dei commenti. Insomma, altra benzina sugli animi dei tifosi. Alcuni di questi, il gruppo Ultras 1898 e la gioventù Pesaro, hanno ricordato attraverso un altro comunicato quali erano gli obiettivi di inizio stagione ai quali sono seguiti invece sette goleade, una squadra terz'ultima in classifica e che oggi ha il peggior attacco e la peggior difesa del campionato. Tifosi che non accettano frasi come «Queste contestazioni non aiutano il risultato sportivo» e invitano piuttosto la società alla decenza di stare zitta e prendersi le proprie responsabilità, additandola come vera vergogna della Vispesaro, li invitano a lasciare il calcio e a passare ad altro. Il tutto con un post-critum di invito anche a pagare l'ultima multa scalandola dagli stipendi della squadra costruita del tutto inadeguata.